IDR Imago, Istituto di Diagnostica Radiologica Per eseguire la risonanza magnetica a basso campo anche su macchina aperta per claustrofobici. Oltre alla risonanza magnetica e alla TAC, IDR Imago esegue numerosi esami di diagnostica per immagini, colonscopia virtuale, radiologia scheletrica e del torace digitale, panoramica digitale delle arcate dentarie, teleradiografia del cranio, ecografie, ecocolordoppler, mammografia e densitometria ossea. Presso l'Istituto è possibile prenotare ed effettuare qualsiasi esame in 48 ore, ottenendo il referto in tempi brevi. I tempi d'attesa per gli esami in convenzione sono inoltre ridotti per i residenti fuori dal Friuli Venezia Giulia. Il costo dell'esame è disponibile sul nostro sito o contattandoci. L'Istituto dispone di un ampio parcheggio ed è aperto tutto l'anno, con orario continuato dalle 8 alle 19. Grazie. Grazie.